Ciao a tutti amici lettori della rete, buon pomeriggio e ben ritrovati al nostro appuntamento con la rubrica speciale 24 giorni a Natale. Per questo dodicesimo episodio ho pensato a Harry Potter perché non potevo esimermi dal suggerirvi Harry Potter in questa rubrica natalizia. Poi quando si tratta di suggerirlo c'è sempre tempo e spazio, però rimuginavo e mi dicevo quante volte mi hai parlato con i tuoi lettori, quante volte lo hai consigliato in tutte le edizioni, cartonata, brossurata, pop-up, illustrata, giapponese, manga, graphic novel. Quindi cosa trovare di alternativo per comunque promuovere la bellissima saga intramontabile adatta a sognatori di tutte le età, a sognatori concreti di J.K. Rowling? E ieri sera mi è giunta l'illuminazione perché io ho Audible. Iscrivetevi al servizio se non l'avete ancora fatto, io ero anche io scettica. Oddio, mi sono affogata. Ero anche io scettica. Poi quando mi sono iscritta e ho testato per la prima volta agli audiolibri mi si è aperto un mondo di possibilità, un modo diverso di avventurarmi nelle pagine di un libro, che comunque restano pagine perché vengono letti i libri così come sono stati scritti, con l'aggiunta dell'interpretazione, quindi la voce rievoca in maniera ancora più viva la forma, l'identità dei personaggi e delle vicende narrate. Quindi ho Audible, ieri sera volevo ascoltare qualcosa e ho detto scarichiamo l'audiolibro di Harry Potter e la Pietra Filosofale letto da Francesco Pannofino. Trovate fino al terzo volume della saga in audiolibro, sempre letti da Francesco Pannofino, che sta facendo un lavoro magistrale, poderoso, perché insomma man mano che si va avanti, i volumi della saga assumono un corpo sostanzioso, una mole notevole, però Francesco Pannofino è attore, doppiatore di gran classe ed era l'unico che avrebbe potuto leggere Harry Potter, l'unica persona davvero degna. E quindi è stata una magia, è stata una magia doppia, sono tornata a Hogwarts, il primo audiolibro di Harry Potter e la Pietra Filosofale dura forse quattro ore se non mi sbaglio, o qualcosa di più, comunque passano rapidamente, non ci si accorge di aver ascoltato un libro per così tanto tempo e non si ha voglia neanche di fermarlo, di prendersi una pausa perché la voce di Francesco Pannofino, ripeto, è una voce sensazionale. È la voce di Hagrid, quindi riconoscerete intanto un personaggio che già avete ascoltato nell'adattamento cinematografico di Harry Potter, ma poi è una voce così poliedrica, così duttile, che si modula in base alle diverse caratteristiche timbriche, di diversi registri dei protagonisti. L'unica pecca, ecco, l'unica pecca, se proprio bisogna trovare il pelo nell'uovo, è la mancanza di un sottofondo musicale. A mio parere avrebbe reso l'esperienza ancora più divertente, ancora più appassionante e vera. Però è solo un dettaglio, non significa che l'esperienza non sia stata appassionante e vera. Un bel modo originale, nuovo, di leggere Harry Potter. Bene amici, il consiglio di questa puntata termina qui, noi ci vediamo domani e dalla vostra amica book è tutto. Ciao ciao amici, ciao ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!